Prego Prego Ma guarda che strana è la cosa Prego Siamo presi da sta storia dei divanti Prego Quelli venuti da lei di che nazionalità? Prego 40, me ne dica qualcuno Prego Lei è sposato Prego A lei è una coscienza Prego Ma guardate La nana è disturbata finlandese o Era muta? Prego Mara lei conosce un prete Che offre la canonica Ci vada con il suo fidanzato quando deve andare Prego Scusi ma mi intriga il viaggiare per divani altrui L'esperto ha avuto avventure piccanti Prego Prego Il sito non ha niente a che vedere con un sito di incontri o di dating site come noi diciamo Prego Il nome del sito www.cowsurfing.com 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 .com Prego Grazie.